... Marotta. Aureole Marotta, voti. Ho chiuto. Invernizzi, Galperti, Agostini e Roberta. ... Ci siamo? La votazione è chiusa. La Camera approva. Articolo 13, emendamento al 13.50. Relatore. 13.51. Parere contrario. Governo. Parere conforme al relatore. Perfetto. Non abbiamo interventi. 13.50. Russo, contraria Commissione del Governo. Votazione aperta. Invernizzi, Sicco. Occhiuto. La votazione è chiusa. La Camera respinge 13.51 Russo. Prego, Onorevole Russo. Lo ritiro. Ritirato. Pongo in votazione l'articolo 13. La votazione è aperta. Ritirato.